E' stato arrestato dagli investigatori della sezione criminalità organizzata della squadra mobile di Palermo, Paolo Lumia, il narcotrafficante di Mazzara del Vallo, ritenuto uno dei principali intermediari tra i cartelli sudamericani e le organizzazioni criminali del sud Italia. Esponente delle famiglie mafiose di Porta Nuova e Bagheria, Lumia, estradato dal Belgio nell'ambito di un'operazione condotta dalla polizia italiana e da quella belga, era sfuggita a un'altra operazione antidroga, Lampara, del 2011. All'uomo è stata notificata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Palermo Luigi Petrucci il 22 febbraio 2011, quando furono fermate 12 persone con l'accusa, a vario titolo, del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Lumia all'epoca era detenuto in Belgio perché era stato arrestato all'interno di un centro fitness di Anversa, dove era stato pizzicato con ben 283 kg di cocaina, assieme ad altri due italiani, il mazzarese Giuseppe Vastone ed Enrico Maria Bianco. Nell'ambito delle indagini culminate nell'operazione Lampara, tra il 2008 e il 2009 la squadra mobile di Palermo, insieme alla sezione antidroga della squadra mobile di Trapani, aveva condotto una vasta attività di indagine, finalizzata a ricostruire i traffici di droga, in cui risultavano coinvolti i soggetti vicini alla cosca mafiosa bagherese e a quella cittadina di Palermo Centro. Delineati inoltre i ruoli dei personaggi indagati nel traffico internazionale di stupefacenti oggetto di indagine, i quali, per dissimulare il reato contenuto delle loro conversazioni telefoniche tra i presenti, indicavano la droga col termine di cassette di pelle.